Ieri come lista F più Europa per una città maiuscola abbiamo parlato della ex ferrovia Fanurbino, ciclabile o ferrovia? Un tema molto dibattuto, quello che è emerso in un modo anche diverso e molto ironico, abbiamo avuto prima la presentazione da parte di Gianluca Ruscitti in modo ironico di quella che è la realtà di quell'area, abbiamo capito che la strada per l'ex ferrovia Fanurbino è quella di una ciclabile ma la ferrovia per Urbino è una cosa necessaria, noi non siamo contro una ferrovia per Urbino ma non in quel contesto purtroppo il dibattito politico tende a polarizzare le posizioni, noi vogliamo evitare questo, vogliamo semplicemente in modo pragmatico ricordare come un tragitto così importante che è stato chiuso per 37 anni possa essere riutilizzato con pochi soldi in modo pratico la regione Marche ha pagato uno studio di fattibilità di 350 mila euro e chiediamo di poterlo vedere perché se è stato pagato evidentemente è stato consegnato, in più c'è un altro studio da un milione di euro a cura dell'ex senatrice a Coto dalle stesse parole dell'assessore Baldelli vediamo che questo tragitto può essere riutilizzato solo in parte perché? Perché ci sono 97 in croceraso e i manufatti come gallerie e ponti che non sono riutilizzabili e non a una cifra adeguata è più comodo pensare a un percorso nuovo per la ferrovia che può essere un'occasione e quello esistente perlomeno dentro Fano possa essere utilizzato come percorso ciclopedonale grazie 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 grazie